...fornendoci anche dei dati, nel mente il sostegno dell'acqua arriva. Eccoci qua, allora, non le do neanche il tempo di sedersi e le chiedo come siamo messi, vada. Ma non benissimo, potrebbe andare molto meglio. Qualche elemento per farvi vedere. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo tenuto i conti sotto controllo, però ci sono dei dati molto preoccupanti sugli investimenti. Gli investimenti fissi lordi, che poi sono quelli che consentono di mantenere la competitività nel medio-lungo termine, sono crollati. Nel scorso anno solamente sono crollati dell'8%. Lo vedete qui, in questo grafico vedete che siamo passati da circa investimenti fatti ogni anno per il 21% del PIL al 17% del PIL in un contesto in cui il prodotto interno lordo italiano si è ridotto di circa il 6%. Quindi molto peggio rispetto ad altri paesi. In particolare la situazione è molto più grave se guardiamo poi le spese in ricerca e sviluppo, dove l'Italia ha un deficit molto forte rispetto ad altri paesi. Rimanga solo un secondo solo su questa slide, le chiedo, la parte di sinistra, cioè quella che riguarda gli investimenti, parla di investimenti industriali? Sì, investimenti fissi, impianti, strade, tutto quello che è. Ricerca e sviluppo, la scoraggiante colonnina rossa in basso a destra nella parte destra guardando della seconda. Oggi è chiaro che... La nera è la media dell'Unione, è vero? La nera è la media dell'Unione, ho messo due casi diversi, la Grecia dove abbiamo visto un crollo fortissimo degli investimenti e ovviamente un crollo ancora più forte del prodotto interno lordo e la Germania dove invece c'è un andamento stabile in linea con la media europea ma in un contesto di prodotto interno lordo crescente. Diciamo al volo quali sono i virtuosi a percentuali molto alte, Finlandia mi sembra? Beh sì, sono paesi in cui ci sono molte spese per ricerca, sviluppo e innovazione, c'è anche una cultura finanziaria dove molto spesso queste imprese sono sostenuti da fondi di venture capital, da business angels che aiutano alla formazione e alla crescita di nuove imprese. Quindi Finlandia, Svezia e Danimarca, paesi nordici, prego. Diciamo il problema che oggi abbiamo è un problema di ripresa e ovviamente per sostenere la ripresa ci vuole una crescita della domanda aggregata e se vediamo le varie componenti della domanda aggregata non siamo messi particolarmente bene, sappiamo che sul fronte pubblico ci sono i vincoli di Maastricht che non permettono agli stati di fare politiche espansive, se guardiamo gli investimenti privati, io confermo quello che diceva il dottor Gizzoni, l'incertezza del panorama economico oggi scoraggia gli investimenti, questo si associa molto spesso, devo dire dal punto di vista finanziario, ad una carenza di credito a medio e lungo termine. Oggi è quasi un dato di fatto che i grandi investimenti infrastrutturali in Italia si fanno soprattutto se siamo presenti noi della Banca Europea per gli investimenti o la Cassa Depositi e Prestiti, cioè soggetti che prestino a lungo termine. Per le piccole e medie imprese oggi gli investimenti, i nostri finanziamenti vanno principalmente sul working capital perché anche lì la crisi, l'incertezza riduce gli investimenti e li limita quella di sostituzione. Sui consumi privati non perdo tempo, la disoccupazione crescente, la riduzione del reddito disponibile ha impatto e quello che fa oggi la differenza in Europa sono un po' le esportazioni. Paesi che risentono meno della crisi e imprese che risentono meno della crisi sono quelle che esportano. La Germania ha un prodotto interno lordo che dipende per il 40% dalle esportazioni, le imprese che riescono ad avere più facilmente accesso al credito sono quelle che hanno una domanda generata per i loro prodotti non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. E questo in scala accade anche in Italia? Assolutamente sì, lo vede anche quando ci sono dei bond piazzati sul mercato da parte di imprese però sono tutte quante imprese generalmente che hanno una proiezione internazionale. Oggi siamo in una situazione in cui la liquidità è abbondante ma non è nel posto dove dovrebbe essere insomma, diciamo in una specie di situazione di trappola della liquidità. E cioè dove è collocata? Nei conti correnti? No, c'è ma non va a sostenere gli investimenti perché c'è un clima di incertezza ed è proprio questo un po' il punto. E poi c'è un'obiettiva convenienza per molti investitori e istituzioni finanziarie di non prendere rischi, di non collocarlo ma di fare investimenti in titoli finanziari quindi con meno rischi e meno costi anche. Che cosa bisogna fare secondo me? Bisogna cercare in qualche modo di riavviare la domanda aggregata e ricreare maggior fiducia per mercati e per investitori. E qui speriamo tutti quanti che i dati del prossimo summit europeo insomma il prossimo summit europeo ci porti a delle soluzioni. Però voglio focalizzare diciamo un attimo l'attenzione su questa slide perché oggi siamo un po' in una retorica dell'Europa cattiva che non ci fa crescere. Dobbiamo secondo me uscire assolutamente da questa retorica. Noi in Italia dobbiamo fare i nostri compiti. Questi sono i dati del Doing Business Report della Banca Mondiale di questo anno. Una classifica su 185 paesi sulla competitività misurata su vali e assi se ne parlava prima. È impensabile, è inaccettabile che l'Italia sul funzionamento della giustizia lo vede qui sulla destra sia al 160esimo posto su 185. Le chiedo una cortesia. Siccome non si legge benissimo e poi in inglese però invece come lei giustamente dice è importante andiamo proprio nel dettaglio. Ora ripetiamo. L'ultima colonna a destra è? Enforcing contract. che vuol dire praticamente quanto tempo ci vuole, quanto è complicato avere rispettati, fare in modo che i propri diritti vengano rispettati. Ma guardate... 160 qui. Siamo al 160esimo posto su 185. Fantastico. Abbiamo una quantità di paesi che noi consideriamo inferiori come cultura economica che sono molto avanti. Ne ho sottolineati alcuni, insomma. I permessi per costruzione siamo al 103esimo posto. Il primo in alto a sinistra. Permessi per costruzione. Getting credit, ovvero accesso al credito, siamo al 104esimo posto. A livello fiscale siamo al 131esimo posto. Che cosa vuol dire questo? Che non possiamo, insomma, solamente lamentarci per l'Europa. Noi dobbiamo veramente mettere mano al paese e fare delle riforme. E non penso... Questo è un po' il messaggio. Un paese moturo, come è l'Italia, non può fare riferimento sempre al vincolo esterno. Noi abbiamo fatto riforme quando eravamo obbligati a farli. Questo è un qualche cosa che dobbiamo capire. Bisogna cambiare l'Italia. Bisogna fare in modo che questi numeri non siano più presenti. Che si vada su sulla classifica. E queste sono cose che gli imprenditori guardano quando decidono sulla scelta di investimento. E se posso è qualche cosa che dà ancora più merito alla classe di imprenditori italiani. Perché combattono ogni giorno in un mondo che è veramente, veramente complicato. Lasci solo... Le do il tempo di prendersi l'applauso. Lasci solo un secondo a questa slide. Però vedo in alto, in alto, in alto, a sinistra, un numero 73. Perché da... Siamo sempre a 73. Però facilità di fare business. Numero 73. Sì, questo qui è il volume aggregato che prende in considerazione altre cose. Per esempio, siamo messi bene in altre voci. Sulle registrazioni dell'intellectual properties. Sulla facilità di commercio. Però ripeto, oggi... Qual è la voce dove siamo messi meglio? Mi sembra che sia sulla questione, diciamo, non di grandissima rilevanza. Che è registering properties. Quindi sulla registrazione dei brevetti e su queste cose. Sulla protezione degli investitori. Quella che erano le tutele delle minoranze. Una volta anche abbiamo fatto passi da giganti. Però... Sono voci, diciamo, importanti. Ma ce ne sono altre che sono ugualmente, forse, più importanti. In cui siamo molto, molto indietro. Prego. Voglio stare nel mio tempo. Che cosa fa la BEI in questo contesto? Noi nei prossimi anni, dopo la decisione del Consiglio Europeo dell'anno scorso di giugno, aumenteremo il nostro volume di attività di circa 20 miliardi l'anno. E questo significherà per l'Italia un flusso di investimenti di circa 9 miliardi ogni anno. Ci concentreremo ovviamente sul credito a meglio lungo termine. Ma soprattutto su cercare di facilitare gli investimenti. Prenderemo rischi, condivideremo rischi col settore bancario. In modo tale di fare in modo che il settore bancario possa prestare di più. E cercheremo anche, per esempio, di velocizzare il mercato del credito per le infrastrutture con questa Project Bond Initiative. Quindi cercando di creare un mercato diverso da quello del credito bancario per la realizzazione... Che è quello che dicevamo prima. Cioè sostenere le imprese ad emettere delle proprie obbligazioni. Esattamente. In questo caso si tratta di obbligazioni correlate il cui ripagamento dipende esclusivamente dal funzionamento di un progetto. Concludo perché so che il tempo era pochissimo su alcuni spunti e alcune provocazioni. Oggi sappiamo che dobbiamo cercare di dare uno stimolo forte. E allora le scelte importanti che devono venire qui a livello europeo sono come sostenere la domanda aggregata. Già nel 2008 con Padova Schioppa si cercava di... L'Italia ha cercato di portare gli investimenti per alcuni grandi progetti di rilevanza europea, le reti transeuropee dell'energia, delle infrastrutture, al di fuori del calcolo dei parametri di Maastricht. Questo potrebbe essere un qualche cosa che consente di dare una spinta alla domanda aggregata. Sappiamo benissimo come a livello europeo una proposta del genere incontri forti e difficoltà politiche. L'altro elemento, secondo me, e quell'immagine di prima lo dimostrava, è che non possiamo assolutamente smettere nel risanamento finanziario e soprattutto nelle riforme strutturali, nelle liberalizzazioni, nelle riduzioni delle inefficienze, per rendere appunto l'Italia un paese più interessante per gli investimenti e quindi acquisire anche quella credibilità che poi permetta di presentarsi all'estero con un altro approccio. E da ultimo, e questa è un po' un qualche cosa che sicuramente va fatto a livello europeo, ci vuole una comunicazione e soprattutto una strategia chiara a livello europeo. Molto spesso a me capita di parlare con investitori stranieri degli Stati Uniti e non c'è chiarezza su quello che è il percorso della crisi, su chi fa cosa, e poi a volte c'è una comunicazione che è veramente troppo volatile e devastante. Insomma ricordo gli effetti che hanno avuto su molti paesi in difficoltà le dichiarazioni di alcuni importanti politici europei quando sono stati fortemente penalizzati i correntisti a Cipro. Questo ha creato un panico in molti paesi che invece avevano iniziato un percorso di recupero, di riattrazione di fondi che erano andati via. Un nome per tutti nella Grecia, dopo il periodo della crisi, erano rientrati sui conti correnti della Grecia 25 miliardi di euro con la decisione, con le dichiarazioni sul fatto che si sarebbero tassati i conti correnti a Cipro, questo denaro ha preso di nuovo la strada per altri. Si chiede spesso coerenza agli imprenditori, questa coerenza ai giovani imprenditori e agli imprenditori, non si può chiedere perché parliamo d'altro. Assolutamente, quindi in conclusione secondo me è che tutto quanto è possibile, dobbiamo secondo me agire da paese maturo e affrontare i problemi principalmente in casa e poi aspettare dall'Europa una strategia chiara e anche delle scelte coraggiose. Il coraggio è stato qualcosa che ha educato prima Federico Ghizzoni e sono d'accordo, è quello di cui c'è bisogno in questo momento. Grazie tante, dottor Scannapiego, vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti. Gianluca Racana, lei dove lavora? Io lavoro a Londra, come pensavo perché ne abbiamo parlato ieri lungamente, sono architetto e director di Zadi d'Architect, forse qualcuno lo conosce, uno studio tra i più prestigiosi al mondo di architettura, progettazione. Siamo 400 professionisti. Qualcosa che avete fatto? Abbiamo fatto in Italia, è molto noto il Maxi, il Museo delle Arti Contemporanea a Roma, in giro per il mondo facciamo un po' di tutto, dallo Stadio Nazionale del Giappone a Tokyo, la nuova sede della Banca Centrale dell'Iraq, lo Stadio dell'Acqua per le Olimpia di Londra. L'Iraq è complicato. Sì, la nostra fondatrice è di origine irachena, ma noi lavoriamo in zone di guerra storicamente, in zone molto difficili. In Cina? In Cina lavoriamo tanto, abbiamo fatto il Teatro dell'Opera a Canton, e abbiamo ormai molti del nostro fatturato viene dalla Cina. Voi siete nati? Noi siamo nati, diciamo, la cronostoria la faccio partire da quando io mi sono unito allo studio, nel 2000. Eravamo una ventina di architetti e abbiamo dei forti legami con l'Italia, per questo probabilmente siamo stati invitati. Perché allora quanto facevate in Italia? Noi facevamo, eravamo 20 architetti, facevamo circa il 50% del fatturato, diciamo il maxi era il nostro grosso lavoro, a quello è seguito la stazione dell'alta velocità a Napoli, la stazione marittima a Salerno. Quindi allora il 50% dei vostri introiti veniva da lì? Dall'Italia. Oggi a distanza di 10 anni tutto sommato ci è andata bene, perché abbiamo 20 volte il fatturato che avevamo allora, 400 architetti, ma abbiamo un fatturato in Italia del circa il 5%. E questo dipende perché voi siete stati bravi e i soldi li prendete da un'altra parte? o perché è complicato fare lavoro in Italia? Ci sono due ordini di ragioni. La prima va attribuita alla globalizzazione dei mercati, che ben conosciamo, quindi diciamo un po' il declino delle economie mature, l'emergere di quelle dell'est. Sicuramente ci sono state difficoltà a lavorare in Italia, almeno tre, diciamo la prima, problemi di burocrazia, legislazione politica e amministrazione locale. La seconda una cronica mancanza di fiducia nella programmazione, al grido di tanto ce la facciamo comunque, siamo sempre dall'estero, vediamo sempre l'Italia, o in situazione di attesa, non succede nulla, o in situazione di estrema emergenza. E questo è veramente difficile da spiegare a colleghi che non sono italiani. La terza è il cronico ritardo dei pagamenti dell'amministrazione, quindi per una società che offre servizi ovviamente è un grosso problema. bisogna dire che lavorando in tutto il mondo, non è che l'Italia poi sta messa male come mercato, abbiamo problemi in Cina dove la proprietà intellettuale non è considerata come qui in Italia, lì copiano la borsetta, ma stranamente copiano anche interi edifici, noi abbiamo un cliente che ci ha chiamato, guardate perché state facendo lo stesso edificio in quell'altra città, se lo andate a controllare era identico, ma non era nostro, l'avevo copiato da internet. E abbiamo problemi con gli arabi di pagamenti, abbiamo problemi... Perché gli arabi non pagano? Insomma, sono un po' come gli italiani se vogliamo. Abbiamo problemi di estrema corruzione in... Ma quali arabi? No, ma questa cosa gli arabi mi incuriosisce. Cioè, ma gli arabi pubblici o gli arabi privati? Beh, come sa, se vuole lavorare in certi paesi deve mettere giù un deposito. Sì, elegante eufemismo, sì. Sì, insomma ci sono tutte queste difficoltà, però devo dire che il non... Per non, diciamo, lavorare meno in Italia per noi non è stata una scelta, effettivamente. La cosa più preoccupante è stata un'effettiva mancanza a un certo punto di opportunità. Quindi noi lavoriamo dove ci chiamano, dove ci sono le opportunità e a partire da qualche anno, al di là di tutti questi problemi che sono storici e diciamo propri di lavorare qui, c'è una reale mancanza di opportunità. E questo, diciamo, è il segnale che è probabilmente nuovo, almeno vedendolo dall'estero. Senta, chiuderei con... Lei ieri mi ha spiegato, quando le ho chiesto, perché poi lavorate in un certo senso più facilmente a Londra. Perché mi ha detto, c'è un ecosistema più adatto. Che significa? Beh, diciamo, Londra è stata storicamente proiettata verso il mercato globale. Quindi noi come players in questo contesto, se lavoriamo meno in Italia, lavoriamo più altrove. Purtroppo nel mio settore non sono così fortunati i colleghi che lavorano in Italia, perché storicamente c'è una difficoltà ad andare all'estero, in parte anche dovuta alle dimensioni, in parte all'appoggio del sistema paese di cui si è parlato prima. Quindi quando noi facciamo gare in tutto il mondo, c'è sempre il politico francese che fa la telefonata, o UK Trade Industry che ci appoggia. I nostri colleghi italiani, non so chi li aiuta. Però diciamo, se voglio concludere con un messaggio, questa mancanza di opportunità, in realtà noi dall'estero la bilanciamo con altre opportunità. Quello di cui veramente poi va molto a perdere l'Italia è che non avendo opportunità qui la gente va via. Io sono andato via tanti anni fa e nel mio team a Londra ho più di 40 architetti italiani. Con loro lavoro bene in tutto il mondo, sono molto apprezzati. e vinciamo progetti dappertutto, viene sempre da chiedersi ma come mai non l'hanno fatto anche da qui. Quindi insomma chiudo con questa nota, se vuole, autobiografica e sono pronto anche alle sue domande. No, 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 la mia domanda è che tutto si... Non è una domanda, è un riprendere l'ultima cosa che ha detto. Cioè che tutto si chiude quando l'ha detto io, il francese ha questo tipo di sostegno per una gara internazionale, l'inglese ha questo tipo di sostegno l'italiano, vabbè, vabbè. Però c'è anche un fatto, c'è una pigrizia da parte, in qualche modo da parte quelli bravi, in molti casi se ne vanno quelli bravi, protetti, riescono a rimanere per rendere più competitivi che serve. Italiani sto parlando. Nel mio settore, che è quello della progettazione e molto anche dell'edilizia, il problema è molto complesso perché ha molto a che fare con la pubblica amministrazione. Quindi riprendendo tutte le scale, dal legislativo, amministrativo ma anche a livello di preparazione tecnica e di sinergia tra la professione e l'industria, insomma c'è tantissimo da fare. È anche vero che tra i miei colleghi o realtà simili in Italia c'è molto meno propensione a andare all'estero. Voi perché in Italia comunque si sta bene e voi perché storicamente non si sono visti sempre i mercati esteri come un ripiego. Penso che se non ci si cambia un po' la testa in questo ci si troverà molto male, però molto poco. Grazie. Jaime Rocha, allora cominciamo adesso qui. Are you going to speak in portuguese? Parlerà in portoghese, quindi io in fit, a meno i pochi fortunati poliglotti, eccoci qua pronti con le nostre cuffie. Senta, allora prima di tutto, uno, quanti anni ha? Sì, devo aver sbagliato, devo aver sbagliato il... Su che numero siete? Su che numero siete perché io sto sentendo in portoghese? Informazione per la platea, bisogna andare sull'uno. Uno italiano, fantastico. I will be, I will get you in a few seconds. Ok, ok, perfetto. Sì, è come no, la sento perfettamente, anche gli altri, sul numero uno. Senta, la sua impresa che cosa fa? Noi siamo un gruppo che cominciò con la costruzione civile, la costruzione di shoppings, il mercato immobiliario. E allungo di due anni noi fomos diversificando e procurando nuovi investimenti, come fabbricazione di led in la Cina, hotelaria, finanziaria. Ma specificamente noi siamo oggi un gruppo di investimenti. Gruppo di investimenti, soprattutto in quale terreno? Specificamente il nostro maggior fatturamento viene da costruzione civile. Senta, i campionati del mondo di calcio del prossimo anno, per i quali l'Italia con il pareggio di ieri ancora non si è classificata, ma siamo messi molto bene, e le Olimpiadi del 2016 sono... Perché tutti pensano... C'è una discussione su questo, no? La prima battuta è aiutano l'economia di un paese. Poi, facendo dei calcoli dopo, in molti casi non è così sicuro. Atene, da un certo punto di vista, insegna. In Brasile che cosa sta succedendo? No Brasile falta molta infrastruttura. Il mondo e le Olimpiadi del 2016 trouzono per noi la possibilità di investimento in infrastruttura, che è il maggior problema del Brasile oggi. Sempre che si ha investimento in infrastruttura, quando il governo fa parte dell'e, a iniciativa privata viene sempre a l'investimento. Quindi, això trouxe molti investitatori estrangeiros, fez con che i brasileiros investissero dobrati a cada local, e fez também con che aparecesse para o mondo alcune cidades che, attè quindi, non erano così conhecidas, Onde va a avere i gioci, onde va a avere il movimento. In tutto il paese che io vado a presentare la mia compagnia, io sempre procuro avere in un locale un parcero che identifica le opportunità. Qui in Italia noi abbiamo la Parisi Investments, che è un parcero nostro, un rappresentante autorizzato nostro, che sta in Napoli, Milano, e identifica i possibili investimenti per noi. Mi permette di salutare il Presidente del Senato, Pedro Cassio. Per me, lavorare con italiani sempre è molto facile. Primeiro perché noi abbiamo una grande colonna di italiani nel Brasile, nel sud del paese. Noi, Brasilelli, abbiamo molta admittura per le cose che gli italiani facendo, come moda, vini, investimenti in automobili, investimenti in industria, exportazione. Dopo che il italiano ha molto il perfetto della mia compagnia, che è molto calma prima di investire. E dopo che investiremo, abbiamo pazienza per che il negozio matura. Questo è molto la nostra filosofia. C'è una fórmula magica per riuscire a fare accordi, o no? La nostra compagnia sempre è stata convidata per investire in diversi negozii. E dentro di questa storia, abbiamo fatto una formula per identificarla di quali dovessi investire o non. E questa formula, quando abbiamo conversato, le persone mi domano. Ma è una formula basica che quando abbiamo guardato per un investimento, abbiamo tentato encaixarla dentro di questa formula del nostro gruppo. Se passare la formula, abbiamo investito. Il cui elemento centrale è che bisogna fare i soldi, insomma. A gente guarda per un negozio e vuole sempre che gli agreghi valori, sia strategico, complementare, da necessità umana. A gente precisa entendere il comune e il fine del negozio. A gente deve avere la zona di entendimento dell'operazione. E poi, tendo l'esperienza di lucro, che è la principale, siamo qui per essere parceri, essere socios. Chiudiamo con un discorso di preoccupazione, perché lei ha detto quanto sia tutto sommato un percorso fattibile, è già in parte realizzato, di buone relazioni fra la sua impresa, il suo paese e il nostro paese. E una cosa invece che spaventa per aprire un business con l'Italia, qual è? No, io non vedo per aprire un business con l'Italia. L'unica cosa che mi rende molto triste è quando io comincio a conversare con un italiano, e lui ancora ha la idea che il Brasile è solo il paese di samba, praia e futebol. Io penso che lui precisa percebere che il Brasile sta in crescimento molto buono, con grandi opportunità in tutto il Brasile. Speriamo che si capisca, anche se non vogliamo dimenticare la samba e il calcio, naturalmente, ai quali siamo particolarmente affezionati. Ghi Dimor, The Financial Times. Allora, Ghi, parlaci di noi e permettimi una cattiveria iniziale che è la seguente. Tu spesso sei stato giustamente, tra l'altro la tradizione The Financial Times è una tradizione di estrema serietà e rigore. E' un giornale molto piccolo, vendiamo solo 400.000 copie. Però diciamo che qualcuno che conta lo legge il tuo giornale, di passaggio, da uno sguardo ai titoli, guarda i titoli, ok. E spesso non hai lesinato critiche, giustamente, al nostro paese. C'erano dei miei vecchi colleghi, un po' fa, che dicevano che tanti corrispondenti esteri non lasciano mai l'Italia perché in Italia vivono molto bene e possono parlarne molto male. No, no, non è vero. Non è vero, no. Please go, prego. Io sono qui in Italia da cinque anni e sono molto felice qui. No, ogni paese è diverso, ogni paese ha gli stessi problemi. Ma volevo raccontare una piccola storia. Ho vissuto in Cina per quasi dieci anni. Ho studiato il cinese. Una settimana fa sono andato in Inglaterra, ho visto i titoli nel giornale locale. C'è un articolo che ha detto che l'azienda Tata, un'azienda indiana, che ha comprato le più grandi brand famose delle macchine in Inglaterra, Jaguar e Land Rover, e questa azienda Tata ha deciso di investire più di 3 miliardi di euro, più nelle fabbriche dove loro producono Jaguar e Land Rover, vicino Birmingham, dove sono i miei genitori, perché la domanda per le macchine di lusso vengono dalla Cina e ho mandato. Per me, dieci anni fa, chi avrebbe pensato che un'azienda indiana, un'azienda di una colonia inglese, prima ha comprato le due brands più famose dell'Inghilterra, Jaguar e Land Rover, e vendono più verso la Cina. Questo è incredibile, infatti. E volevo chiedere a tutti voi, per esempio, se posso, alzi la mano qui chi parla cinese. Avete tutta la mia solidarietà. Allora, questo è interessante. Jacopo ha chiesto che ci sono i propositi per questa conferenza, e un proposito, le scuole in Italia devono dare i corsi in cinese. È molto semplice, ma anche forse con l'industria. Seconda domanda, alzi la mano, qui ci sono i cittadini della Cina o l'India, qui nella sala? Ci sono i migranti, anche gli investitori migranti? Sì, nessuno, nessuno. Questa è la visione del futuro, proprio se. Scusi se faccio tanti errori con l'italiano. No, a noi piace il tuo italiano, ma, in ogni modo, se lo hai bisogno, puoi alternare, puoi usare la tua lingua. Grazie, grazie. Il punto che volevo fare è che, per attirare gli investimenti stranieri, l'Italia deve mettere, come si chiama, un tappeto di benvenuto. Sicuramente quando Tata è entrata in Inghilterra, parecchi anni fa, c'erano i grandi dubbi, ma infatti loro hanno fatto grandi investimenti. E forse dopo sentiamo l'esperienza di Gucci, che sono accampati dai francesi. Ma, in contrario, queste settimane ho sentito il ministro del governo, che ha detto che forse l'Italia non deve vendere le aziende di film meccanica, Anzaldo Energia, che è vicino di qui, a Genova, e Anzaldo Breda, perché è meglio che queste aziende grandi rimangano nelle mani italiane. Ma questo forse non è una visione molto chiara. In alcuni casi c'è un problema di interesse strategico, per esempio per quanto riguarda la parte anche militare di film meccanica, e credo che questo sia anche alla base di una preoccupazione. Sì, questo è vero, ma Anzaldo Breda e Anzaldo Energia... No, no, sì, 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 ma sto parlando del complesso del gruppo. Sì, sì. Prego, scusa, perdona, mi ti ho interrotto. Da un punto di vista straniero, non voglio parlare di questo qui, un paesaggio di Luguria molto bello, bellissimo, ma devo dire che forse l'Italia ha dimenticato come trattare i turisti, soprattutto a Roma. Personalmente io ho avuto esperienze molto positive, ma anche un po' negative in Italia, ma in generale i turisti stranieri che arrivano adesso soprattutto a Roma hanno l'esperienza molto deludente. Allora, Giacomo ha chiesto i propositi, un proposito, a Bill of Rights for Tourists, un manifesto dei diritti per i turisti. Quando un turista straniero arriva a Fiumicino, lui, lei, deve ricevere un elenco dei diritti di turisti in diverse lingue, cinese, inglese, francese, portugese. Per esempio, quanto costa un taxi? Che i ristoranti debbano pubblicare i prezzi? Che i ristoranti debbano dare un ricevuto? Ma le cose semplici, semplici, perché i turisti stranieri, loro quando arrivano qui, loro non sanno queste cose. Finalmente, un'altra proposta. Forse, l'Italia ha bisogno di una polizia per i turisti. un polizia per i turisti che parlano inglese, francese, tedesco, è un numero rosso dove i turisti possono chiamare per aiuto quando ci sono i problemi. Sì, sì, mi sto immaginando... Vado avanti? No, sì, certo, naturalmente. No, mi sto immaginando... Non per contraria, sto ragionando. Sono completamente d'accordo, però penso alla grande differenza che c'è tra una persona che parla inglese, che è la lingua del mondo, e che va da una parte e che si aspetta automaticamente che le persone gli rispondano in inglese. Devo dirti che in molte parti del mondo, che pure ho frequentato per lavoro e per turismo, è complicato anche solo riuscire ad andare con un taxi, per esempio, a Tokyo, e sto parlando di un trasferimento da ricco, non da... A parte che chi va a Tokyo in vacanza tanto poveraccio non è, ma comunque andare a Tokyo come è noto dove ancora nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono i nomi delle strade e tu devi ogni volta farti fare il disegnino dall'albergo. Quindi, fermo che prendo, sto ragionando sulle cose che tu dici, e le prendo assolutamente per buone, proprio perché noi siamo un grandissimo paese che ha il primo patrimonio al mondo dal punto di vista della ricchezza e della cultura. Quindi noi dobbiamo fare questo per questo motivo. Detto questo, non c'è reciprocità. In grandi posti, come per esempio la Cina, che possono essere dei posti dove il turismo, per esempio, anche interno, inizia a crescere enormemente, tu vai lì e sei solo nei confronti del mondo. Quindi, è giusto quello che tu chiedi, però siamo anche un po', come dire, clementi con noi stessi. Do you agree? Sì, sì, no, sono totalmente d'accordo. Turismo e investimenti stranieri vanno anche insieme. E questo è il mio terzo, forse, ultimo punto. La mafia, sfortunatamente. Perché, un esempio, quattro anni fa sono andato in Calabria e ho trovato due o tre aziende italiane, inglese, sfortunatamente anche spagnolo, che hanno venduto i appartamenti, i villaggi turistici agli stranieri a Calabria. E, sfortunatamente, tre mesi fa la Guardia di Finanza ha sequestrato tutti questi villaggi turistici per un valore di 450 milioni di euro. Perché tutte queste aziende anche inglesi, devo dire, spagnoli e italiani, erano coinvolte con la mafia. E questi investitori stranieri, anche turisti, che hanno voluto comprare i appartamenti vicino alle spiagge di Calabria, loro hanno perso tutto fino adesso. Ok, turismo, investimenti stranieri, la mafia. L'Italia deve riconoscere pubblicamente l'enorme potere della mafia. E sono molto felice di vedere Pietro Grasso qui. La mafia ha un reddito di più di 100 miliardi di euro. Investitori stranieri, e anche i turisti, hanno bisogno di un tipo di garanzia che i loro investimenti non vengono coinvolti con la mafia. Forse si può, un'altra proposta, non so se è possibile, ma si può fare una zona libera della mafia, una zona franca a Calabria, non lo so, a Campania. Scusi? Magari l'Italia intera. Magari l'Italia intera, ma si può cominciare, può allargare. No, sì. Grazie. La risposta, magari l'Italia intera, la free zone dalla mafia e dalla criminalità organizzata dovrebbe essere l'intero territorio nazionale. Comunque, grazie per le tue suggestioni, perché vorrei partire proprio da quest'ultima per il nostro colloquio con Giuseppe Recchi che è presidente dell'ENI, però ha un ruolo anche di rilievo nell'organizzazione delle società estere che investono in Italia, a parte il fatto che l'ENI è la nostra prima multinazionale. Io, se lei è d'accordo, ingegnere, partirei proprio da qui. Cioè, oggi come oggi, nella percezione e nella realtà, il peso della criminalità organizzata è un discrimine fondamentale per decidere l'investimento e il non investimento in Italia? Guardi, abbiamo fatto uno studio con le imprese multinazionali che sono presenti in Italia e sono in Confindustria, sono oltre 90, ma l'Italia, essendo la settima economia del mondo, è un bacino che raccoglie tutti i più grandi marchi del mondo. Per cui, è un paese che fisiologicamente attrae. Attrae perché è un mercato di consumatori, perché è un mercato di produzione, perché c'è know-how, tecnologia, capacità manufatturiera, non è neanche vero che c'è un alto costo di produzione rispetto ad altri paesi occidentali e quindi ha in sé una struttura di qualifiche che lo rendono un mercato ideale per collocarsi. Quindi tutto l'hardware, chiamiamolo, tutto quello che altri paesi che sono emergenti, che magari crescono a tassi del 10-15% cercano di avere, cercano di costruire, di pianificare per il loro futuro, noi già ce l'abbiamo. quello invece in cui noi manchiamo viene fuori da questa indagine è tutto l'aspetto organizzativo, chiamiamolo il software dell'impresa Italia, cioè tutto quell'aspetto che devono trasformare la presenza di una multinazionale presente in Italia che è già presente o che vuole venire in un percorso prevedibile, in un percorso certo, nella capacità cioè di disegnare il film del rischio-beneficio con una abbastanza certa definizione dall'inizio alla fine. Invece quello che succede in Italia per i vari aspetti che poi sono gli stessi che decliniamo come imprenditori italiani sta tutto sotto il cappello grande dell'incertezza, cioè dell'incapacità del nostro paese di essere controparte. Allora questo si esprime in vari capitoli e da questa analisi abbiamo visto che il primo oggi è il tema della giustizia, quello che ad esempio piace in altri sistemi specialmente anglosassone che è il code of law, la rule of law, cioè un sistema di leggi che sono certe e definite e non ti espongono invece all'improvvisazione del tuo percorso. Quindi mi scusi però questo è un discorso diverso da quello della criminalità. Cioè in questa graduatoria la sicurezza non è i primi posti perché quello che voglio dire è che non esiste il ben godi dell'attrattività, cioè non è che gli Stati Uniti che sono il primo paese al mondo per competitività è un paese semplice, non è che l'Inghilterra è un paese semplice, non è che la Cina dove tutti vogliono andare è un paese semplice, anzi sono paese complicati ognuno per i suoi motivi ma sono tutti motivi che si possono prezzare in un'analisi di rischio per cui le classifiche che diceva il dottor Scana Pieco siamo ottantesimi nella easy of doing business che è una classifica che misura probabilmente quanti permessi deve fare un'impresa prima di aprire. Allora in Italia ce ne andranno probabilmente quattro volte tanto quelle in Inghilterra ma questo è un fattore che le imprese mettono a prezzo mettono in conto poi soprattutto una multinazionale si attrezza c'ha studio legale c'ha consulenti per cui il valore dell'investimento è quello il dramma e che vale soprattutto poi per le imprese italiane è che quando tu cominci il percorso entri in una burocrazia in una fase di imprevisti di improvvisazioni che non sai dove ti portano per cui i mille permessi che pensavi ci voressero diventano in corso di completamente mille cento mille cinque duemila duemila cinque allora cosa succede nel mondo d'oggi interrompo solo un secondo per dire speriamo uno dei Confindustria insiste tantissimo su questo magari qualcosa presidente riuscite a portare a casa sulla sulla semplificazione è proprio uso un termine banale incottura un provvedimento del governo su questo e quindi l'auspicio è che vada in direzione nella direzione da lei indicata che vale per le nostre imprese e naturalmente vale anche per quelle che dall'estero vengono perse noi tutto per dire che è chiaro che poi alle parole devono seguire i fatti però perlomeno un po' di impegno sembra ci sia mi perdoni per l'interruzione sicuramente però il problema che un'impresa multinazionale ragiona in termini di capital allocation cioè ha i suoi cento dollari nella tesoreria centrale e decide dove è meglio investirli in una possibilità globale per cui sia per settore che per geografia l'imprenditore italiano purtroppo è condannato è prigioniero del suo paese a meno che non sia un esportatore per cui questa incertezza questo confronto con la sua controparte per cui vuoi che sia la giustizia vuoi che sia la burocrazia vuoi che sia la sicurezza vuoi che sia l'infrastruttura vuoi che sia tutti i fattori che ben conosciamo sono fattori che non riesce a superare lo condannano a essere schiacciato e oggi direi che stiamo un po' peggio da questo punto di vista perché una volta si riusciva se non altro a decifrare il paese cioè i pro erano superiore ai contro e c'era una capacità di srotolare il gomitolo se non altro chi conosceva bene l'Italia sapeva come muoversi oggi in questa crisi economica soprattutto in questa crisi di fiducia e crisi delle istituzioni il gomitolo è meno districabile perché non sai più chi sono i punti di riferimento e non sai più se veramente ne va la pena per cui la sicurezza è uno dei fattori e quindi è difficile mi viene in mente ne trago la conclusione in questa situazione diventa ancora più complicato stendere quello che Dilma prima ha definito il tappeto rosso che ogni paese e quindi anche il nostro deve offrire all'investitore straniero quello direi che è una questione di cultura noi ci stiamo provando con Confindustria cioè di educazione alla importanza dell'investimento a Esad cioè un paese le risorse o ha materie prime e le vende o sono le tasse o la bilancia commerciale esportazioni superiori a importazioni o sono capitali che vengono dall'estero per cui per noi è un fattore importantissimo pensi che ci sono un miliardo cioè 1.6 trilioni di dollari nel mondo di investimenti diretti esteri che viaggiano in cerca di collocazione per cui questa è una partita che ormai non giochi più passivamente cioè se hai un bel paese hai le tue condizioni la gente arriva oggi le aree economiche competono come le imprese per cui si devono dotare di strategie pianificazione e tutto quello che fa del nostro negozio compreso il tappeto rosso compreso una vetrina lucida e compreso all'interno un bravo venditore e penso nella raffigurazione del bravo venditore al nostro policymaker che quindi faccia delle condizioni che rendano questo il posto di elezione per stabilire le proprie imprese o penso anche all'amministratore pubblico un sindaco un presidente o un ministro degli esteri dice oggi la diplomazia o l'amministrazione locale ha sempre più a che fare con la gestione commerciale il problema di un sindaco è far quadrare i propri conti e far risultare la sua città più attraente ma per tutte le categorie le imprese sono la più immediata da pensare ci sono i cittadini che decidono di venire qua perché un inglese un francese un tedesco quando si stufa il suo paese non deve decidere di venire a vivere per sempre a pagare le tasse in Italia e tra l'altro abbiamo da offrire credo la miglior qualità della vita esistente perché un turista turista noi siamo il quarto paese al mondo nella classifica del turismo dovremmo essere il primo col secondo neanche in vista e non riusciamo invece a creare un'offerta che ci renda attraenti pensi che leggeo l'altro giorno adesso c'è un'idea di utilizzare la cinematografia attraverso le film commission per promuovere il paese come product placement all'interno di fiction che lo trovo un'idea geniale le film commission sono regionali hanno fatto un film dedicato al Brasile e da quando è uscita questa telenovela brasiliana si chiama Passione una cosa del genere forse lui la conosce i turisti brasiliani sono aumentati del 53% poi ce n'è stata una per la Cina una per l'Olanda e vanno avanti così ecco queste sono le tipologie di cose che un paese deve fare finisco solo l'America che è il primo paese al mondo per attrazione turistica si ha risorse naturali ha tutto però insomma deve costruire a Disneyland Venezia Firenze e riprodurre una fiction di quello che noi invece abbiamo naturalmente e quindi veramente una battuta perché il nostro tempo il tempo di questa è scaduto il tempo di questa tavola rotonda solo quello ripartire da per chiudere ingegnere ripartire il tema è come dare certezze allora lì diciamo come creare la responsabilità nel coloro che hanno in mano l'amministrazione che sono le nostre controparti ci va noi nel capitalismo vinciamo della sanzione del fallimento se le nostre imprese sbagliano siamo sanciti del fallimento fallendo ecco non esiste nella nostra società nella nostra amministrazione non più tanto la sanzione morale che ormai si è persa ma neanche la sanzione della responsabilità un amministratore può lasciare un buco in bilancio in una città in una regione e lo eredita qualcun altro e non succede niente ecco dobbiamo forse ribaltare questa responsabilità anche a tutto l'aspetto adesso abbiamo una nuova norma esattamente su questo che poi limita e vieta la rieleggibilità nel caso di bilanci in passivo per gli amministratori la speranza è che si trovi un modo concreto anche per mettere in pratica grazie a tutti voi e ci avviamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti